Buonasera a tutti e a tutte, è davvero un piacere e un onore essere qui questa sera. Siamo estremamente felici di poter per il primo anno inaugurare questa collaborazione tra il Festival Dialoghi di Pandora Rivista e Fondazione Mast. Una realtà che tutti conoscono per il suo importantissimo apporto alla cultura, all'arte e alla riflessione nella città di Bologna. Ecco, solo qualche parola per spiegare il progetto di Pandora Rivista e la natura del Festival prima di dare la parola a Luciano Floridi che ovviamente ringraziamo moltissimo e siamo davvero lieti di avere qui con noi quest'anno in questo e in altri incontri del nostro Festival. Ecco, Pandora Rivista nasce come un progetto integrato. Come dice il nome, è una rivista cartacea, un quadrimestrale di approfondimento che mira ad unire discipline diverse, dalla economia, agli approfondimenti sulla tecnologia, alla sociologia, alla politologia, la storia. Unire tutti questi diversi strumenti per provare a dare a tutti, a un numero maggiore di persone possibili, gli strumenti per comprendere le grandi trasformazioni del presente. Siamo inseriti in una fase storica di cambiamenti profondissimi, ormai da più di dieci anni. Crisi economica, crisi ecologica, transizione digitale, cambiamento dello scenario internazionale e ora anche le guerre e la crisi energetica. La nostra convinzione è che per orientarsi all'interno di questo scenario sempre più complesso e in costante cambiamento è necessario avere degli strumenti di conoscenza e cercare di ampliare il più possibile l'accesso a questa conoscenza. Avere cioè delle modalità attraverso cui il sapere, a partire dai suoi ambiti di produzione, in primo luogo quello universitario, ma anche tutti gli ambiti, quello economico, quello appunto dei think tank in cui in un qualche modo la conoscenza nasce e si produce, questa conoscenza possa diffondersi in tutti gli ambiti, presso la cittadinanza e costruire appunto un dialogo intorno al quale soggetti diversi possano riunirsi, parlare e maturare visioni comuni. Per fare questo Pandora Rivista naturalmente si dota di strumenti diversi, oltre alla rivista cartacea di cui parlavo c'è anche un sito internet in cui questi argomenti vengono declinati e approfonditi, Pandora Rivista.it, attraverso un lavoro quotidiano. Vi è la presenza social, strumenti nuovi come i video podcast che noi proponiamo appunto sempre sui nostri canali social, ci sono le ricerche che il nostro team, la nostra rete che ha una base a Bologna ma è diffusa in tutta Italia, sviluppa e insieme a partner diversi. Tutto questo, tutto questo insieme di iniziative mira a costruire una sfera pubblica ricca e plurale, improntata appunto all'approfondimento. Una parte fondamentale di questo lavoro è appunto il Festival Dialoghi di Pandora Rivista che arriva quest'anno appunto al suo quinto anno. Siamo partiti nel 2018, anno dopo anno il progetto è cresciuto. A Bologna il Festival si svolge in luoghi storici del centro della città ma anche in spazi innovativi come questo bellissimo auditorium in cui ci troviamo oggi. Noi proviamo ad animare una discussione che ogni anno si incentra su un tema centrale e che propone a tutti i partecipanti punti di vista e prospettive diverse appunto per approfondire, per avere strumenti e per provare a dipanare la complessa matassa del mondo in cui ci troviamo. In questo quadro appunto quest'anno abbiamo scelto come tema del Festival quello che è indicato dal titolo Democrazia in crisi, efficacia, fragilità, spiragli. Che in un qualche modo ci sia una difficoltà dei nostri sistemi democratici è una cosa che credo tutti percepiamo e non da oggi, stiamo parlando di processi di lungo periodo che presentano appunto molti elementi stratificati tra di loro. Ma vorrei soffermarmi un attimo sulle tre parole del sottotitolo. Efficacia, ovvero la sfida dei sistemi democratici di fronte a modelli appunto non democratici di dimostrare appunto di essere in grado di maturare appunto una comprensione di questi processi e un sistema efficace di decisione. Fragilità, in un duplice senso. La fragilità delle democrazie a cui dobbiamo porre rimedio ma anche la fragilità che in un qualche modo tutti noi abbiamo imparato a conoscere anche negli anni della pandemia. Una fragilità che appunto è un tratto dell'umano con cui bisogna confrontarsi e che le democrazie devono in un qualche modo includere e provare diciamo a fare in modo appunto che questa fragilità possa ricevere delle risposte. Gli spiragli sono la terza parola una parola che in un qualche modo entra in consonanza con il punto di domanda che abbiamo voluto accompagnare al titolo. che vuole lasciare appunto una porta aperta per una speranza di cambiamento per diciamo una via per cui queste democrazie non possano non essere appunto sempre bloccate in questa crisi ma si possano appunto individuare delle vie di uscita. Dal nostro punto di vista queste vie di uscita richiedono tantissime cose ma innanzitutto di lavorare su questo nodo della conoscenza. Una conoscenza diffusa di cui in un qualche modo tutti noi questa sera proviamo a partecipare proviamo in un qualche modo a sperimentare questo modello di diffusione che ci permette appunto di elaborare insieme delle possibili eventuali soluzioni. Ecco questa sera affronteremo una questione fondamentale in questa ottica democrazia digitale anche qui con un punto di domanda è il titolo della lezione che ci verrà proposta da Luciano Floridi che io ringrazio davvero sentitamente per essere qui oggi con Luciano Floridi c'è un rapporto che in un qualche modo si è costruito nel tempo abbiamo avuto occasione di invitarlo in passato a Bologna prima della pandemia poi ci sono stati momenti di dialogo sulla nostra rivista con interviste e discussioni ed è un rapporto ed è qualcosa cui noi come rivista teniamo molto e per questo è molto importante averlo qui oggi a trattare un tema così importante e lo conoscete tutti ma ricordo brevemente Luciano Floridi è professore ordinario di filosofia ed etica dell'informazione presso l'Oxford Internet Institute dell'Università di Oxford ed è anche professore di sociologia della comunicazione presso l'Università di Bologna e lo ricordo ancora una volta Luciano lo dico sempre però mi sembra giusto ricordarlo anche in questa sede recentemente mercoledì è stato insignito dal Presidente della Repubblica Mattarella della più alta onorificenza della nostra Repubblica ed è stato nominato Cavaliere di Gran Croce ecco io non aggiungo altro se non ancora un ringraziamento appunto a Fondazione Mast questo è davvero un luogo bellissimo che anima iniziative fondamentali come la mostra che è attualmente in esposizione Image Capital una mostra che io ho visto e vi consiglio caldamente appunto di visitare perché è estremamente interessante ed è inedita è una mostra che appunto affronta non è una mostra di fotografia ma è una mostra sulla fotografia che tratta appunto la fotografia come tecnica nei suoi molteplici aspetti in relazione con i processi produttivi con tutta la dimensione del digitale dello stoccaggio delle immagini in ambito scientifico, culturale e industriale è appunto una occasione veramente stimolante e quindi diciamo anche per questo è una cosa che presenta anche molte consonanze con i temi che abbiamo trattato sulla nostra rivista è un altro motivo di soddisfazione per essere qui e detto questo io appunto ringrazio anche in particolare Isabella Seragnoli e tutta l'organizzazione della Fondazione Mast e do la parola a Luciano Floridi grazie a tutti e a tutte io l'avevo detto a Giacomo di non menzionare quella cosa ma bocca larga no allora grazie all'organizzazione ma soprattutto a tutte e a tutti voi per essere qui quindi conti questa sera si potrebbe essere altrove godendo anche del del bel tempo il fatto che siete qui rende il compito del sottoscritto un pochino ancora più difficile perché ovviamente non vorrei deludere nessuno e nessuno come piccolo ringraziamento non solo mi associo a quello che ha detto Giacomo mettere insieme la rivista e il Mast per sottolineare questa duplicità nel compito che abbiamo e adesso faremo un po' di lavoro oggi questa sera insieme non è facile detta così in realtà è molto difficile migliorare le cose la duplicità qua del compito è capire per costruire vedete bene l'abbinamento tra la rivista e il Mast del Mast la parola forse che sta più a cuore è la prima della manifattura cioè della costruzione del fare del cambiare del migliorare quindi la tecnologia l'innovazione è qualcosa che porta il mondo a qualcosa di meglio e questa duplice valenza per cui se vuoi cambiare il mondo lo devi capire prima ma capire il mondo senza poi cambiarlo non è tanto utile cioè il filosofo che sta lì ci pensa ci pensa però qualcosa andrà pure fatto ecco a me piace molto questo abbinamento tra il capire e da un lato il comprendere cioè avere le idee un pochino più chiare perché se no chissà che pasticci fai dopo però poi qualche pasticcio farlo rischiare anche qualcosa insomma rischiare di fare anche qualche errore perché ovviamente non si cambiano le cose senza rischiare qualcosa ma anche passare alla costruzione alla manifattura del mondo e allora in questa presentazione questa sera cercherò di fare un po' tutte e due di unire un po' di comprensione e un po' di costruzione per farlo mi servirò ovviamente di un qualche classico ci mancherebbe il filosofo che non si appoggia a qualcuno che è arrivato prima non fa il suo mestiere però vorrei fare soprattutto un po' di analisi concettuale capire un po' dove siamo perché la nostra democrazia non sta funzionando tanto bene quanto vorremo e che cosa si possa fare per migliorarla il sottotitolo e adesso possiamo partire con la presentazione è qualcosa che non volevo subito mostrare per non dare così via il fine ultimo di quello che potrebbe essere il messaggino da portare a casa forse si tratta di cambiare proprio la nostra mentalità su quello che i filosofi chiamerebbero senza spaventare nessuno l'ontologia della politica diciamo partiamo bene stasera cioè di che cosa stiamo parlando quando parliamo di democrazia e di politica e dello Stato sembra un po' una cosa da filosofo adesso mi metto lì che cosa vuoi dire che cosa intendi per però io spero adesso nei 45 minuti o giù di lì che abbiamo insieme di spiegare tanto bene quanto riesco che si tratta veramente di andare a capire ricordare capire per poi cambiare per poi costruire capire in fondo dove stanno i problemi e poi una volta che magari questa natura ultima del politico l'hai capita meglio l'hai capita alla luce del ventunesimo secolo puoi cercare di mettere le mani sul meccanismo e modificarlo allora un po' come se fossi veramente un operaio vai lì e dici senti ma questo attrezzo qui ma come funziona dice no ma guarda no no ma fammi vedere bene dentro smontiamolo perché se poi veramente l'ho capito dall'interno poi è più facile che magari io riesca a migliorarlo a cambiarlo o addirittura a sostituirlo con qualcosa che oggi quel lavoro lo ha fatto molto bene ma oggi mi serve qualcos'altro ecco con questa metafora un po' sempliciotta di veramente qualcuno che vuole mettere le mani sull'oggetto di cui l'idea che lo Stato possa essere oggi un momento di interfaccia proprio un po' come avrebbe detto Olivetti che menzionerò tra poco per fare questo lavoro attraverseremo questi punti i punti torneranno quindi se qualcuno poi si perde per strada la mattina ritorna come sempre se qualcuno ha assistito a altre elezioni o altri momenti insieme sa che questo è un po' lo stile affronteremo un po' il problema cioè qual è il problema oggi di questa democrazia dov'è che sta un po' la difficoltà punto 2 e poi alcune soluzioni che sono state proposte ma bisogna migliorare i cittadini no bisogna migliorare i partiti non sono tanto convinto e quindi una proposta leggermente diversa non perché cittadini migliori e partiti migliori voglio dire non ci vuole certo il filosofo per dire e grazie non potrebbero far bene e meglio ma perché non sta lì la difficoltà e se noi insistiamo nel pensare che stia lì la difficoltà continueremo a cercare di migliorare tutto questo sistema mettendo le mani in versione manifatturiera sulle rondelle sbagliate non perché non si possano migliorare ma perché la questione sta altrove allora è un po' come se tu avessi questo meccanismo continui a insistere nel riparare qualcosa che in fin dei conti ma si guarda grosso modo va già abbastanza bene e ti scordi che c'è l'altra parte del meccanismo sulla quale invece dovremmo focalizzare questa è la conclusione allora iniziamo dal problema il problema è deprimente l'avverto subito il testo quello il primo testo di Olivetti di Adriano Olivetti Democrazia senza partiti in realtà aveva un titolo diverso fini e fine della politica 1949 poi viene ripubblicato nel 53 appunto 52 con quel titolo e sarà poi ultimamente pubblicato nel 2013 Stefano Rodotà ha una bellissima presentazione all'inizio e io vi raccomando la lettura di questo testo questo testo dicevo è deprimente per questa ragione se leggete questo testo è il 1949 ti cascano le braccia siamo all'apogeo dunque della forza dei grandi partiti organizzati così il regime politico attuale prende il nome non a torto di partitocrazia 1949 sono passati 70 anni cioè io pensavo che l'avessimo inventato recentemente il termine che fosse una cosa e adesso ma c'è la partitocrazia da mo che c'è la partitocrazia si lamentava Adriano Olivetti citando tra l'altro nel testo fonti tardo-ottocentesche in Italia retto da un occulto e complesso ingranaggio di interessi e di personalismi è l'apogeo e l'inizio della decadenza adesso questa cosa io l'avevo scritta prima delle elezioni detto questo c'è una certa coerenza su questo perché questo è deprimente perché vi ricordate continuiamo a cercare di riparare le cose probabilmente affrontando il problema nel modo sbagliato cioè non può essere che 70 anni o giù di lì di gente anche brava lasciate stare i farabuti i mafiosi i corrotti ma c'è tanta gente brava che ha fatto politica in Italia gente che ci ha lasciato anche la vita la vita per sistemare meglio il paese e non è riuscita a far cambiare questa frase allora da qualche parte ti viene il dubbio che forse stiamo insistendo sulle cose sbagliate qual è il problema questo ve lo faccio in maniera molto veloce perché potremmo passare tutta la serata su questo noi in realtà veniamo da un sistema di tipo politico che potremmo chiamare di post-Westfalia cioè dal 1648 noi ci siamo organizzati intorno all'idea dello Stato che ha i suoi confini controlla fisicamente lo spazio legale ed è governato da qualcosa che è sovrano oggi ovviamente il sovrano è il popolo l'altro ieri era qualcun altro quello che non abbiamo è l'alternativa post-Westfalia cioè oggi quello Stato lì quel modo da 1648 di concepire lo Stato è veramente un po' cambiato sono passati quei due o tre secoli e non è la stessa cosa come dire ma sai in fin dei conti lo Stato è lo Stato non è proprio così perché perché lo Stato è diventato una società dell'informazione la società dell'informazione adesso lo spiegherò gentilmente ma ci sarebbe anche qua da passare più tempo la società dell'informazione crea nuovi agenti no che al loro interno contengono agenti li chiamiamo multi agent systems immaginate delle scatole con delle altre scatole dentro si possono chiamare ad esempio Unione Europea Banca Centrale dell'Europa oppure la Fed negli Stati Uniti oppure la Nato cioè altre cose che non sono lo Stato come l'abbiamo visto dal 1600 in poi e questi trasformano il modo di governare in una governance molto più distribuita insomma quando si dice ma dai tanto comunque qualunque governo va lì in fin dei conti dovrà fare i conti con l'Europa è questo che stiamo dicendo stiamo dicendo che in fin dei conti sì la sovranità c'è ma sai è vincolata modificata influenzata allora non è che noi siamo passati in un contesto di fine della storia in realtà siamo diventati sempre più storici ma non perché uno deve fare un po' come dire lo strano il filoso il per storia ma no perché la storia è la dipendenza della nostra società da tecnologie della creazione manipolazione e distribuzione delle informazioni ICT Information Communication Technologies si esce dalla preistoria quando hai modo di registrare il presente per il futuro quindi con la scrittura noi siamo diventati sempre più storici adesso questa relazione è una relazione di dipendenza in una relazione di dipendenza tu passi da un contesto in cui ti bastava avere il sistema westfalico a casa mia si fa così a casa tua si fa colà ognuno si fa gli affari suoi a casa propria basta il confine vi ricordate la territorialità della legge che oggi non ha più senso ciperspazio e tutto il resto e quelle quattro cose che avevamo imparato con l'illuminismo cioè i diritti umani universali allora un po' di westfalia un po' di illuminismo e noi grosso modo ce la cavavamo in termini di stato non è che è sbagliato ma non è più sufficiente qui la distinzione è importante perché ogni tanto si sente dire ah ma sai lo stato oggi non serve più no lo stato serve sempre di più è sempre più necessario ma è anche sempre più insufficiente allora qua servono due mani sempre più necessario sempre più insufficiente perché perché ci sono altri agenti sulla scacchiera oggi l'Italia non può pensare di fare una politica internazionale ma anche nazionale infischiandosene di quello che decide la Germania eccetera eccetera oppure qual è la politica sul dollaro per l'inflazione e così via oppure qual è il prezzo del petrolio e così via allora tu ti ritrovi su una scacchiera in cui sei sempre più necessario e sei sempre meno sufficiente per fare la differenza è una situazione un po' difficile questo vuol dire in questo contesto di dipendenza il problema che abbiamo politico è come facciamo a costruire questi agenti che ci circondano non sono agenti che emergono come dire dalla giungla a un certo punto c'è l'Unione Europea l'abbiamo costruita l'OPEC è stato costruito le Nazioni Unite e tutto il resto sono tutte costruzioni sociali che noi mettiamo insieme allora la domanda che ti poni è ma se lo Stato è sempre più necessario è sempre più insufficiente perché ci sono altri pezzi sulla scacchiera questi altri pezzi le regole del gioco come le stiamo costruendo in che modo dovremmo procedere perché vi ricordo questa è la parte della comprensione cioè dire se io almeno il meccanismo almeno teoricamente lo capisco poi posso anche sporcarmi le mani la realtà è più complicata ci sono vincoli ci sono difficoltà ma la comprensione quella che tu hai in mente ti aiuta un po' poi a fare i compromessi giusti per sistemare questo o quest'altro allora tutto questo la soluzione a quella domanda è stata per molti anni democrazia se qualcosa non funziona democrazia ci guarda la Corea del Nord ma brutto posto come lo risolvi democrazia una bella dose di democrazia dice hai visto Putin Russia ma tu aspetta gli facciamo gli diamo due punture di democrazia vedrai come riparte ha funzionato per tanto tempo ha funzionato in Sudafrica ha funzionato con il muro di Berlino ha funzionato in tanti angoli del mondo cioè ogni tanto tu dici ma sai che ci vuole qua dose da cavallo democrazia 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 e è una cosa buona però allora il problema ti si sposta questo è David Sassoli un grande italiano che è scomparso recentemente e diceva bellissima frase che io ho voluto riprendere guardate che la democrazia non è che è andata fuori moda è che bisogna bisogna aggiornarla questo è un messaggio che io vorrei lasciare chiaro non è che la dobbiamo buttare ci mancherebbe ma facciamo stare e poi stiamo anche registrando no è che tu nel libro della democrazia devi scrivere il capitolo successivo lo vuoi aggiornare allora siamo arrivati dopo tutta questa premessa un po' veloce e dire ma abbiamo un problema nel capire qual è la difficoltà dietro il problema vi ho detto un po' di Westfalia un po' di trasformazione stiamo mettendo le mani qui e di lì è dai tempi almeno di Olivetti che le cose non vanno bene non abbiamo fatto un buon lavoro qualcosa bisogna anche migliorarlo insistere sullo Stato come unico oggetto è un po' fuori luogo sempre il riscelier per intenderci in realtà a qualcuno anche ai sovranisti di turno glielo devi spiegare ma non per cattiveria che il mondo non funziona più così e che quindi ci sono tanti agenti sulla scacchiera bisogna anche giocare con gli altri agenti come costruiamo questi agenti questi sono i problemi che abbiamo tra noi bisogna aggiornare un po' la democrazia ma qual è allora se la democrazia è la soluzione qual è la difficoltà che sta dietro la democrazia vi ricordate la democrazia digitale ecco la democrazia è una soluzione in crisi e è una soluzione in crisi perché purtroppo non è banale dire ma sai basta il dibattito la discussione la democrazia è entrata in crisi con una sua problematicità interna adesso le cose che sto per dire potrebbero essere mal comprese quindi attenzione il concetto di resistenza in Italia è un concetto molto forte perché ha ovviamente radici nella seconda guerra mondiale ma è anche di tipo medico ed è in termini medico che io sto parlando la democrazia ha sviluppato una sua autoresistenza cioè resiste a se stessa un po' come quando tu utilizzi gli antibiotici troppo gli antibiotici sono una gran cosa salvano la vita ma se ne prendi troppi poi non funzionano più se li dai troppo agli animali noi abbiamo una crisi di resistenza agli antibiotici che cos'è che crea la resistenza agli antibiotici gli antibiotici stessi ne prendi troppi esageri con gli antibiotici l'antibiotico non funziona più allora il meccanismo qua l'avete capito banalizzo al massimo proprio perché abbiamo ancora un po' di stare da fare abbiamo un problema questa nostra politica non sta tanto funzionando qual è la soluzione? tanta democrazia però a un certo punto se tu abusi di democrazia scadi nel populismo e il populismo genera una resistenza alla democrazia è come se l'ingranaggio non funzionasse più vi ricordate quando a casa quella vite adesso la faccio e poi no si è spanata e adesso hai esagerato faceva forza prendeva ma esagerando e insistendo hai rotto il meccanismo ecco il problema che a mio avviso sembra essere qui presente è un eccesso di democrazia appunto di resistenza quasi antibiotica alla soluzione se questa è un po' la difficoltà pian piano stiamo arrivando a mettere le mani sempre più vicine alle rondelle che non vanno tanto bene dobbiamo anche capire qual è una cosa che non ci deve distrarre dice bene allora problema politico la democrazia è la soluzione la soluzione c'è una difficoltà troppa democrazia questo fino qui l'ho capito beh allora certo la democrazia il problema è che abbiamo la democrazia rappresentativa è questa che non sta funzionando non è così e questo Olivetti purtroppo quando scriveva nei suoi anni ha preso un abbaglio ricordate una democrazia senza partiti attenzione i partiti sono fondamentali fanno parte della soluzione non del problema anche se dirlo oggi sembra un po' difficile devi fare un po' il filosofo per dire queste cose però vi assicuro che è così la democrazia rappresentativa ci viene rappresentata come parte della difficoltà se soltanto potessimo essere tutte e tutti coinvolti vi faccio vedere tra poco da dove viene questa storia se soltanto la democrazia fosse una cosa più vicina all'individuo a chi vota ma in realtà questa idea che sia il problema della democrazia la sua natura rappresentativa genera un'interpretazione della democrazia che va o in termini di regole oppure di valori dice ma guarda ma tu per democrazia che intendi questo ve lo lo lasciamo per un'altra volta ma il dibattito tra intellettuale guarda la democrazia è una questione di regole e altri dicono no no è una questione di valori poi non si mettono un accordo ma in realtà la democrazia è una questione se tu parti proprio proprio all'inizio di struttura di struttura del potere cioè tu devi spezzettare il potere se tu non lo spezzetti cioè se tu non fai un po' uno spezzatino del potere non puoi partire con la democrazia questo sembra un po' strano e adesso ve lo faccio capire un po' meglio perché vi ho detto che bisognava fare un po' di lavoro l'essenza o questo lo dico soltanto io per cui se non siete d'accordo siete in buona compagnia l'essenza della democrazia non sta né inizialmente nelle regole né inizialmente nei valori poi ci sono anche loro ma se tu scavi 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 ricordate metti le mani come se fossi un operaio sull'ultimo ingranaggio quello proprio che fa partire tutto è la separazione tra chi il potere ce l'ha e non lo gestisce e chi il potere lo gestisce e non ce l'ha questo è l'inizio di qualsiasi democrazia salta questo e tu fai saltare tutto il resto fai le regole i valori fai come ti pare non c'è la democrazia cioè se c'è l'identità tra chi ha il potere e anche chi lo gestisce e chi lo gestisce ce l'ha è finita per questo la democrazia rappresentativa non è come si dice in altri contesti un bug è una feature non è un problema è una soluzione ti permette di separare attraverso diciamo la sovranità del popolo che non governa e i governanti che non hanno la sovranità la sovranità dalla governance questa separazione che per tutti gli altri valori regole è una sorta di compromesso diciamo purtroppo sai ci vogliono i rappresentanti se soltanto fossimo noi andare lì non è così perché se hai il popolo a comandare e chi comanda è il popolo hai unificato esattamente quello che andava separato il che vuol dire che poi qualunque altra minoranza chiunque non sia d'accordo viene schiacciato giustamente perché chi comanda è chi ha il potere chi ha il potere comanda una volta che tu hai identificato questo allora la fine della democrazia ha tante fini diverse c'è una fine nazista c'è una fine fascista c'è una fine comunista c'è una fine populista c'è Bolsonaro c'è Trump per restare diciamo fuori dall'Italia le alternative alla morte della democrazia sono tante hanno come identità questa sovrapposizione di ma io che sono stato eletto dal popolo ho il potere e lo gestisco questo se avviene è un disastro perché noi invece la pensiamo diversamente è tutta colpa di John Stuart Mill adesso per andare a riprendere con un importante ve la lascio lì 1861 e ci racconta una favoletta che io mi ricordo alle scuola me la raccontavano anche a me dice perché abbiamo perché dobbiamo eleggere le persone eh Luciano guarda perché se soltanto vivessimo in una piccola città in cui tutti potessero essere partecipi informati avere il tempo allora certo quella è la vera democrazia un Atene che non è mai esistita io lo ricordo sempre Atene uccide Socrate non ve lo scordate perché quella è la vera Atene il resto è una fantasia allora lì che sarebbe veramente no purtroppo come dice e siamo tanti e siccome siamo tanti allora ci vogliono i rappresentanti perché questa è una favoletta perché il digitale questa favoletta te la smaschera e senti John vieni qua un attimo adesso io c'è un click si può fare se la vera difficoltà alla fine del percorso è che noi abbiamo una democrazia rappresentativa perché non siamo pochi cioè oggi la tecnologia digitale ti permette la democrazia diretta c'è quella del voto col mio cellulare tante volte quante voglio nella modalità che voglio e allora caro John Stuart Mill non è più vero che non possiamo farlo e quindi quella che sembrava un compromesso in realtà è la soluzione dovremmo adottarla allora poi sempre che John Stuart Mill che non era tanto scemo dice no guarda Luciano non era così è quella che in inglese si chiama white lie cioè io in realtà ti volevo dire un'altra cosa ma mi sembrava facile dirtela in questo modo è un po' come quando ti invitano alla festa di Zia Peppa dice guarda e purtroppo guarda non posso venire perché mamma sta male poi dice guarda ho parlato con tua madre sta benissimo e adesso e adesso gli devi dire che tu alla festa di Zia Peppa non ci vuoi andare perché ti fa schifo la festa di Zia Peppa allora devi smascherare la white lie che abbiamo così assorbito dal 1861 sono un paio di secoli che ce la stiamo così godendo non è vero che noi abbiamo la democrazia rappresentativa perché se soltanto potessimo no no la democrazia rappresentativa è fatta in modo tale da separare sovranità da governance e quindi tu anche se fossimo in un villaggetto la dovresti separare questa cosa anche se fossimo dieci gatti anche se fossimo tanto qui a Bologna allora questo è fondamentale la difficoltà non è quindi la democrazia rappresentativa è un'altra e qual è? è che una volta che tu hai separato sovranità da un lato cioè chi il potere ce l'ha e governance dall'altro chi il potere lo esercita e li separi poi li devi rimettere insieme e si chiama consenso è quello il problema come costruisci il consenso in una democrazia in cui tu sai che devi risolvere la separazione ma poi li devi riunire per separare e poi ricostruire insieme questo è il problema di una qualsiasi democrazia rappresentativa che rappresenta la soluzione allora a questo punto di soluzioni per migliorare ve lo ricordate dieci minuti fa qual è la soluzione? democrazia democrazia come mai si è rotto ma perché abbiamo esagerato nella democrazia ma tutto questo da dove viene? viene dal fatto che non abbiamo ben compreso separazione tutti i pezzettini questi adesso li separiamo bene siamo arrivati a casa no perché adesso che li hai separati li devi rimettere insieme ma scusa allora non stavano insieme no fa differenza se sono gli stessi o se invece li hai separati e poi li hai riuniti separare e riunire vuol dire che hai trovato un consenso attraverso il quale la gestione del potere è consensuale tra tutte le parti non soltanto tra chi il potere ce l'ha e lo esercita e chi lo esercita ce l'ha ecco tutto questo ti porta la domanda come facciamo a migliorare la democrazia qui le soluzioni sono queste per una democrazia migliore puoi o migliorare la politica una semantica di contenuti migliori non per oggi oppure la sintassi diciamo le regole le regole del gioco cioè migliori diciamo come i cittadini operano tra di loro o i partiti e ci soffermiamo soltanto questo perché il tempo sta scorrendo e quindi dobbiamo iniziare a capire d'accordo democrazia rappresentativa va bene questo è lì che sta un po' il dente insomma non funziona ma come facciamo a lavorare meglio possiamo lavorare con i suoi cittadini migliorare i cittadini come si fa a migliorare i cittadini le soluzioni sono note questo è un teorema famoso si chiama il teorema di Condorcet a condizioni diciamo un po' elaborate ma dice una cosa abbastanza semplice più siamo meglio è tanto per farla semplice poi la matematica dietro è complicata ma se voi vedete la numerosità delle persone che giudicano dà la probabilità che la maggioranza ci azzecchi su quello che sta giudicando si può dimostrare che aumenta cioè più siamo più elaboriamo in tanti meglio arriviamo a una soluzione buona e quindi più votanti se fossimo in più se aumentassimo il numero delle persone partecipanti si arriverebbe a qualcosa di gran lunga meglio allora tu poi vai a vedere c'è 37% di persone che non hanno votato è gravissimo però non ho visto grandi analisi su questo ma se più di un terzo della popolazione non vota caro Condorcet è quella curva te la sei giocata come si fa a mandarli a votare ci sono soluzioni uno li obblighi guarda non è soltanto un tuo dovere un tuo diritto è anche un tuo dovere ci sono posti dove è obbligatorio votare in Australia per esempio o in Brasile però Brasile non è che stanno tanto messi meglio di noi allora questa soluzione vi ricordate insistere su questo forse non va tanto bene perché lì è obbligatorio però c'hanno Bolsonaro adesso vediamo perché non è sicuro può darsi che si siamo dice ma bene allora sai che facciamo non soltanto li obblighiamo a votare ma più gente abbassiamo l'età del voto ancora più gente che va a votare benissimo dov'è che si vota anche a 16 anni Brasile un'altra volta allora qui quelli sono obbligati a votare sono anche giovani e guarda che hanno combinato forse più votanti è una buona idea ma sicuramente al momento guardate un po' sono tanti a votare non sembra proprio come dire i fatti non denotano bene ecco vi ricordate meccanismo rondella ma proprio su questa rondella devo andare a insistere forse no sai che facciamo allora li miglioriamo o questo è Rousseau quello quello svizzero più li migliori più sono intelligenti e meglio è quando leggi Rousseau Rousseau dice sì devono votare tutti ma l'importante è che sappiano quello che fanno non fate votare gente che non ha idea ecco questo sicuramente ci mancherebbe più gente che vota più intelligente più informata ci siamo e questo non è una cattiva idea però come vedete è dai tempi di Olivetti che insistiamo su questo e non siamo andati molto lontane c'era quell'altro lato ricordare la sintassi le regole come lavoriamo insieme partiti migliori certo chi è che è contrario a partiti migliori ci mancherebbe i partiti sono quel elemento a metà strada meso dove tu costruisci il consenso allora sono fondamentali perché se la democrazia parte da una separazione però poi ha il problema di rimettere insieme le cose come fai a rimetterle insieme parlandoci l'unico gli altri creando un gruppetto mettendoci un po' d'accordo tu fai questo io faccio quell'altro creiamo un programmino e si è partito poi alla fine allora qua anche qui Olivetti poverino la prima metà del libro è meravigliosa ed è deprimente dove ti dice quanto fa schifo la situazione della democrazia al suo tempo e quella la prendi la fotocopi è buona anche per oggi la seconda parte è veramente preoccupante perché è completamente sbagliata c'è una democrazia in realtà che non ha più partiti soltanto basata sulla comunità tra l'altro cioè profondamente ed esclusivamente cristiana ci sono rischi forti insomma anche di intolleranza attenzione invece i partiti sono fondamentali è la colla che rimette insieme i pezzi dici ma scusa allora lo dico un'ultima volta ma perché l'hai separati se poi li devi incollare insieme perché metterli insieme dopo che l'hai separati è sta lì tutta la costruzione di quell'accordo dove è la minoranza essere rispettata è il debole essere protetto è la voce che non si ascolta che ha anche una sua rappresentanza se no è facile tanta maggioranza vince la maggioranza e gli altri chi se ne frega troppo semplice non funziona così la democrazia allora qui i partiti a metà del livello non stanno lavorando abbastanza bene andrebbero in realtà create delle organizzazioni che abbiano qualcosa di più qualcosa di meglio anche qua vi raccordo e vi ricordo soltanto cose che sappiamo benissimo vado un po' veloce perché il tempo è anche scarso purtroppo i partiti non funzionano neanche loro tutti i vicoli ciechi che abbiamo preso negli ultimi 70 anni perché non funzionano non è la 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 moltiplicazione cioè il fatto che si ce ne siano troppi la proliferazione dei partiti l'errore anche qua guardate a quello che succede negli Stati Uniti e in Gran Bretagna due partiti che non si riesce a modificare e che non permettono a nessun altro partito di emergere sarà difficile essere flessibili e articolati con soltanto sempre quei due partiti l'Italia ha una struttura veramente adesso non è ironica la cosa è una cosa buona avere questa costante capacità di rinnovare i partiti oggi i partiti che sono in giro nel nostro Parlamento non esistevano soltanto alcuni anni fa questo è straordinario vuol dire che il sistema si riesce a cambiare costantemente cambia male ma cambia e il fatto che cambi è già una cosa buona allora qui non è una battuta è vero cioè cambia e tu devi sfruttare quel cambiamento allora qui perché questa è una cosa buona perché c'è più competizione c'è più dinamismo cioè in una società che cambia così velocemente avere un sistema politico che crea partiti li distrugge ne mette un altro li mescola fa degli agglomerati poi questo ti dà un senso come se fossero delle start up un mondo in cui c'è un dinamismo questo mette di buon umore ecco perché purtroppo non funziona è perché il partito di suo come tutte le organizzazioni ha due elementi di interesse uno di chi rappresenta e l'altro privato personale questo è vero di tutte le organizzazioni e il problema è che c'è uno squilibrio tra A e B cioè oggi il partito standard oggi cioè dai tempi di Olivetti ha più interesse in se stesso che nei suoi rappresentanti è questo squilibrio che non che fa sì che la creazione di tanti partiti in realtà non sia un bonus ma sia in realtà un problema tu hai una moltiplicazione di partiti ciascuno dei quali ha come interesse primario se stesso e non il bene di chi dovrebbe rappresentare se soltanto si riuscisse a invertire questo rapporto allora una buona democrazia è dove i partiti sono in competizione tra loro vi ricordo è la colla che compete con altra colla per mettere insieme il consenso e che c'è di meglio dove però questi hanno un buon equilibrio tra interesse che c'è sempre nella propria sopravvivenza sono un'organizzazione voglio esistere anche domani e un maggiore interesse nei confronti della protezione dei rappresentati quindi un interesse altruistico la partidicrazia è esattamente la rottura di questo meccanismo cioè è un contesto in cui tu hai una cosa buona separazione del potere un'altra cosa buona creazione del consenso una terza cosa buona vi ricordate è un antibiotico funziona bene che è i partiti hai quasi il senso che i partiti potrebbero essere altruistici più di quanto siano interessati a se stessi purtroppo finisci nella partitocrazia quando questo equilibrio è inverso sono più interessati a se stessi che all'altruismo a questo punto tu hai soltanto un accidentale sovrapposizione delle loro politiche con quelle che sono le politiche di interesse di chi li ha votati quando accade accade perché prima o poi finisce che il loro interesse sia anche di quelli che li hanno votati ma è casuale ecco questa casualità della sovrapposizione degli interessi di chi ha votato nei confronti di chi è stato votato questo è gravissimo vuol dire che tu lasci al caso il fatto che chi ti sgoverna azzecchi il fatto che seguendo i propri interessi finisce per fare anche un po' i tuoi questo per sintetizzare quindi è troppi partiti e troppo interesse selfici di questi partiti e siamo arrivati quasi alla fine proprio adesso due minuti ancora di pazienza perché vi dicevo tanta comprensione per fare un saltino verso una qualche soluzione è qui che bisogna mettere le mani purtroppo altro vicolo cieco si pensa che si debba riformare i partiti e non è così non è così sempre perché sono 70 anni che proviamo a riformarli i partiti emergono come nodi nella rete se non ti piacciono i nodi devi cambiare la rete con una diversa metafora i partiti sono come le rotonde se quelle rotonde in città non vanno bene hai disegnato male le strade ma non te la puoi riprendere con la rotonda la rotonda finisce per essere quello che è perché lì arrivano le strade insomma se è la rete che costruisce i nodi e non ti piacciono i nodi devi cambiare quello che porta a quei nodi questo vuol dire che abbiamo bisogno di più competizione tra i partiti una maggiore distribuzione della loro capacità di inseguire di soddisfare gli interessi di chi li ha votati ma questo non si può fare guardate è dagli anni di Olivetti in poi che abbiamo fatto riforme tentativi riforme su come strutturare un partito ad esempio il finanziamento del partito quello è un tipico ragionamento per cui tu cerchi di cambiare il nodo senza cambiare la rete e non ha funzionato perché magari va bene magari non bene eccetera eccetera allora qui arriviamo all'ultima parte che si può fare se tu pensi che il problema della partitocrazia che vi ho detto essere questa deriva è un problema diciamo che sta all'interno dell'oggetto che tu hai tra le mani cioè che sia un problema in realtà di intrapartitico è come se tu avessi questo oggetto e ci guardi dentro è qualcosa che non funziona al suo interno se soltanto potessi mettermi lì e dire i partiti devono fare le primarie tutti oppure i partiti non possono essere finanziati oppure i partiti possono essere finanziati fino a un certo punto oppure i partiti esistono soltanto con 5% in più tutte soluzioni che guardano all'oggetto e sono 70 anni che ci proviamo allora hai un certo approccio io quello che adesso vi dico negli ultimi 5 minuti è invece diverso non guardare all'oggetto che è quello che emerge dalla rete ma cambiare quello che è la rete che lo fa emergere cioè si può vivere con il 5% sì no si può vivere con il finanziamento sì no si può vivere con le primarie sì no non è lì la questione forse altro perché se fosse stata lì la questione con tutti gli esperimenti che abbiamo fatto negli ultimi 70 anni questa partitocrazia forse qualcosa saremmo riusciti a farla e non ci siamo riusciti allora guardiamo un po' le cose in maniera un pochino diversa e bisogna guardare nella seconda accezione cioè come se fosse un partito tra infra cioè tra quello che c'è tra i partiti all'interno della rete e questo è l'ultima cosa che voglio dire se voi guardate ai problemi che abbiamo di tipo etico sono quasi tutti non cose buone di per sé ma cose che rendono far bene più facile la neutralità la trasparenza la fiducia la privacy non sono di per sé cose buone moralmente ma sono cose che rendono poi fare il bene un po' più facile sono l'infrastruttura che rende l'etica più facile qui la parolina infraetica pensate ad esempio alla trasparenza la trasparenza tu non la vuoi vuoi la massima opacità ad esempio quando voti tu non vuoi che qualcuno sappia che cosa hai votato la trasparenza non è una cosa buona pensavo che la trasparenza fosse sempre una cosa buona no non è così dipende dal contesto la fiducia la fiducia ma la fiducia è una cosa bellissima dipende perché c'è il massimo grado di fiducia in una organizzazione criminale la mafia si basa sulla fiducia dice no però quella è brutta fiducia no è fiducia ecco quindi sono strumenti per far meglio ma se usati male nel contesto sbagliato possono portare ad errori allora qui hai bisogno di metterli in campo in modo tale che facciano il lavoro migliore quindi che facilitino o blocchino gli agenti e le loro scelte le azioni le loro conseguenze gli stati del sistema i suoi sviluppi nella direzione giusta è un po' come se io vi dicessi ricordare il meccanismo all'inizio meccanica cioè metterci le mani sopra è come oliare il sistema l'infraetica tutti quei valori e altri che abbiamo tanto a cuore sono la modalità di facilitazione di una politica che dovrebbe funzionare bene ecco questo comincia ad essere già il barlume qualche piccola speranza di risoluzione facciamo qualche altro passo perché siamo quasi arrivati la attuale crisi quindi politica io spero di non avervi confuso le idee in maniera ormai irreparabile si può risolvere lavorando sull'infraetica di questo sistema cioè non andando a toccare i nodi del sistema ma in realtà andando a toccare i modi in cui questi nodi emergono e sono relazionati tra loro questo perché piccolo riassuntino così arriviamo alle ultime slides avendo seguito un filologico vi ricordate un po' una crisi politica lo stato di Westfalia necessario sempre di più sempre meno sufficiente come facciamo ci sono tanti altri agenti bisogna disegnare tutto questo in modo decente qual è la soluzione quando abbiamo un problema tanta democrazia più democrazia ma la democrazia però anche lei è un po' zoppica ah sì sì certo perché è rappresentativa no non è perché è rappresentativa perché quello va bene ma allora qual è il problema è la costruzione del consenso è lì dove il populismo immediatamente comincia a infiltrarsi e quindi a fare l'effetto di troppi antibiotici un eccesso di democrazia insomma hai esagerato e come facciamo allora a costruire il consenso il consenso si costruisce con i partiti allora servono i partiti ma come i partiti parte del problema la partitocrazia bisogna sistemare i partiti allora sistemiamo i partiti come se fossero tante cose e andiamo lì a sistemarle una per una come dire dargli una sorta di DNA eh no perché sono 70 anni che ci proviamo e non ha funzionato in realtà poi è un bene che i partiti siano un po' liberi di emergere rifarsi di controllarsi distruggersi mescolarsi mettersi insieme e allora come facciamo dov'è che possiamo andare a guardare una soluzione e può darsi che io abbia preso un grande abbaglio quindi tutta questa ora ve la siete sprecata proprio se uno volesse dire ma guardiamo qualcosa di proprio un momento di diverso sono 70 anni che battiamo su questi chiodi c'è qualche altro chiodo su cui andare a battere è quello che li lega che li fa emergere che cos'è questa roba ve ne ho parlato ne possiamo parlare molto di più è questa infraetica cioè questi valori che rendono più facile far emergere il bene ma che loro di se stessi non sono già valori preesistenti vi ho detto la trasparenza ad esempio la rule of law eccetera allora la crisi della democrazia oggi potrebbe essere vista come una crisi di quello che è l'infraetica è un po' come se uno dicesse guarda che il motore funzionerebbe bene se è bloccato perché non c'è l'olio che fa girare i meccanismi in maniera veramente più facile efficiente efficace se soltanto oliassimo meglio il meccanismo allora tutte le parti farebbero il lavoro giusto allora abbiamo bisogno in realtà di una infraetica per la politica questo è quello che serve oggi adesso voglio spiegare al politico di turno come è che facciamo riformare questo partito guardi serve un'infraetica della politica non ho grandi speranze su questo qui due elementi noi già li conosciamo non ne abbiamo mai messi troppo a fuoco ma la stabilità e il pluralismo sono due cose buone della politica politica stabile e pluralista gli altri due sono il fatto che debba essere rappresentativa e che dia anche di conto rispetto alle sue azioni e queste sono quindi le ultime due cose che voglio dirvi per farvi due esempi concreti in modo che scendiamo un po' a terra dice va bene allora bisogna lavorare sull'infraetica della politica sull'olio del meccanismo non sui meccanismi come? beh per esempio togliendo le liste bloccate le liste bloccate non sono un modo in cui i partiti sono strutturati sono un modo in cui i partiti si relazionano con tutto il resto fanno parte dell'olio sbagliato che non permette che funzionino bene oppure come hanno fatto ad esempio in Alaska avrete visto recentemente il cosiddetto rank voting cioè io devo essere in grado di dire non soltanto quella cosa che preferisco ma anche quella che preferisco un po' di meno ma che potrebbe anche andare bene io ho la mia candidata preferita ma guarda che la mia seconda candidata o candidato è anche qualcosa sulla quale potrei anche mettermi d'accordo se questa cosa vi sembra un po' strana ricordate un po' un primario secondario come si elegge in Francia il presidente molto simile il ranking è completo tu puoi dare una catalogazione come votante di tutti quelli che si stanno presentando tre, quattro, cinque persone che si stanno presentando per essere votate a quel punto chi vince è quello che raccoglie il maggior consenso non con liste strane decise in modo diverso eccetera eccetera allora perché questo vi ricordate all'inizio avevo detto attenzione al sottotitolo e siamo è l'ultima slide tutto questo passo indietro ci permette di capire il mondo oggi in maniera forse più adeguata da ventunesimo secolo abbandonare una visione della politica come se fosse fatta di cose e poi di relazioni ma che invece si imperni sul concetto di relazione che fa emergere le cose quindi è la politica che fa emergere i partiti non sono i partiti che fanno emergere la politica basterebbe questo switch questo cambiamento di ottica per far sì che noi si possa essere in grado di mettere le mani sulla riforma sul cambiamento per qualcosa di veramente più all'altezza dell'internoi secolo siccome siamo partiti però con Olivetti Olivetti in questo un po' ci aveva già visto se fai tutto questo lavoro lo Stato sarà un mezzo affinché la società si esprima liberamente un'interfaccia grazie 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 a tutti